Ben ritrovati sul canale, Jacopo di Livitali qui con voi per dare un aggiornamento a chi mi segue e chi è interessato alla playlist Diventare ricco con corsi online e altri segreti digitali trattino fake guru italiano e con italiani e contrapponiforme Questa playlist che ha raggiunto ormai una dozzina di video avremmo essere arrivati quasi a 10, erano 12 ma me ne hanno bannati 2 Vi dico cos'è successo, i poteri forti, i poteri grassi, i poteri paffuti mi hanno attaccato Ragazzi sono sotto attacco, non posso dirvi cosa, non posso dirvi come ma me ne stanno facendo di tutti i colori, mi stanno rovinando la vita Insomma vi lascio qua il mio paypal, la mia post per il revolution, evolution Se volete farmi un bonifino, bonifico, bonifido, se volete aiutarmi, se volete sostenere l'ambrenedetto Eh Jacopo, niente sto prendendo per il culo l'ambrenedetto C'era un periodo in cui l'ambrenedetto diceva che c'erano i poteri forti contro di lui che volevano ucciderlo perché faceva i video contro la cricca Tornando a me, però è vero, i poteri grassi, i poteri pacioccioni, cicciottelli Quelli che hanno le tettine, no? Ecco, quelli grassi mi hanno fatto bannare due video Mi hanno dato due copyright strike sul mio canale YouTube Tutti colpa mia, fondamentalmente Perché sono un pivellino Non ho comprato il corso a tubo duro Non ho imparato i segreti del marketing digital YouTube Vendere e diventare ricchi con YouTube E quindi sono stato vittima della mia stessa arroganza Della mia stessa ego Egomelomania, come si dice, non lo so Ero convinto, ragazzi, con questa serie Di poter aprire gli occhi Con questa serie di poter portarvi la verità Su quante menzogne, quante false promesse Quanta spazzatura cercano di rifilarvi Pur di prendere i vostri spicci I vostri 997 USD E di fatto, sì Ero partito con i migliori propositi E poi ho fatto appunto un paio di video Il primo su tale Big Look Era un video di 24 minuti Che mi è stato straicato e bannato Perché ha usato il suo stupendo volto Lo stupendo volto dell'uomo più ricco di Dubai Nella thumbnail E in effetti voi mi direte Jacopo, ma scusa Non sai che nel copyright Non puoi usare il viso di qualcun altro In una thumbnail Perché ti deve dare il permesso Sì Avrei dovuto saperlo Però Avete visto i video su YouTube C'è gente Che continuamente mette le facce E i visi di chi è Argomento del video Se Cofi Zilla fa un video su Brian Rose Su London Real Mette la sua faccia Ho notato anche In effetti che ultimamente La modifica Forse perché è così Se modifichi il viso di una persona Questa non può dire Che gli hai rubato la sua faccia Non lo so Sta di fatto che Quando il più ricco di Dubai Mi ha straicato il video Perché ho usato il suo stupendo viso O parte della sua thumbnail Nella mia thumbnail Dove dice Easy Cash Big Cash Sono ricevuto uno strike E questo strike ha implicato Il cancellamento del video da YouTube Che poi potete ritrovare Su Vimeo Vi metto il link qua sotto Perché qualcuno l'ha riappodato Per chi volesse vederlo Ed è un video comunque neutrale In cui io Presento i suoi contenuti E dico cosa fa Ho i miei dubbi Però Non è che posso Neanche Come dire Sbilanciarmi E accusarlo Puntare il dito In maniera esplicita E posso solo Riportarvi Le strategie Le tecniche Che lui E i suoi amici Usano Per vendervi i loro corsi Poi Sta a voi decidere Se potete fidarvi o meno È una recensione Abbastanza neutra Perché ripeto Non posso più di tanto Accusarli Ne avrei tanta voglia Tanto piacere di farlo Però capite Che bisogna restare Nei limiti Del No Di quello che bisogna fare E Nonostante io mi sia comportato bene Abbia fatto un video Neutro Sì ho fatto vedere La sua panza Dove Si fa già vedere A petto nudo Potrò prenderlo in giro Se è talmente grasso Da non potersi pagare Un personal trainer Sta di fatto che Io nel fare questo Questo video Ho messo la sua faccia Nel thumbnail E lui mi ha straicato E mi ha fatto cancellare Il video In seguito Ho messo un altro video In cui Appunto Lo prendevo in giro Perché mi ha straicato Il video Riportando una sua live Dove qualcuno Gli ha dato Del Del ciccione E lui gli risponde Dicendo Perché Prendimi pure in giro Perché sono grasso Sto parafrasando Ma intanto Glielo spiegherai tu A tuo figlio Che da grande Non hai potuto Pagargli la scuola Privata Americana Internazionale Perché Invece trollavi Il più ricco di Dubai Sulla chat Quindi questa risposta In cui lui subisce Bullismo Da persone Molto crudeli Che lo prendono in giro Per il suo aspetto fisico E lui risponde Nella live Dicendogli che lui Sarà povero E avrà un figlio Che andrà in una scuola Per poveri E quindi Lui è un fallito Perché dovrebbe Comprare i suoi cursing Per poter pagare La scuola privata A suo figlio Io ho riportato Questo pezzo E sono sicuro Di averlo registrato Da facebook E io Genio del male L'ho uploadato Senza paura Su youtube Peccato che Il più Il più strategico Di Dubai L'aveva anche Uploadata su youtube E quindi Ho di nuovo Infranto il copyright Nel Nel pubblicare Che ne so 10 secondi Della sua live E 5 secondi Di commento mio Dove dico Che mi ha fatto Bannare un video E poi c'era Il suo spezzone Quindi youtube Ma è il secondo strike Quindi ragazzi Io non posso Andare avanti A attaccare Certi personaggi Se poi poteri forti Mi vogliono far Bannare il canale Quindi Cosa è successo Che adesso Mi prendo Una pausa Di qualche mese E senza parlare Appunto Di questi personaggi E poi Magari Quest'estate Fra un po' Torniamo Torniamo a dire Due cose Mi dispiace Perché Se youtube Fosse una piattaforma Giusta Sai che loro Sono tutti i paladini Della diversity E quality Della libertà Di parola Di essere No Ci dovrebbe essere Anche un interesse Di youtube Nel Permettere che Le persone Siano informate Su certe pratiche A mio parere Sleali O comunque Poco Pulite Sì sì Sono legali Certo Tu puoi vendere Qualsiasi corso Vuoi A qualsiasi prezzo Vuoi Finché c'è qualcuno Che te lo compra Però Nel bannarmi un video Perché ho messo Una thumbnail Che riporta Il personaggio In questione Era un video Con più di 5000 view Quindi Un discreto livello Di informazione È stato fatto Mi hai tolto Non a me Hai tolto Alla comunità Italiana Di youtube Un'importante Fonte Di informazione Un punto di vista Diverso Al posto di Quando cercate Il più ricco di dubai Trovate solo Le recensioni In cui lui Ha chiesto I suoi amici E sui clienti Di parlare Di quanto è bravo Quanto è bello Quanto è paffuto Eccetera Trovavate anche Una mia recensione Che va un po' Contro vento Magari Vi fa Accende Quegli ultimi neuroni Rimasti nel cervello Tra instagram E tiktok Che dicono Tiktok Instagram O salvare I miei soldi Nel conto in banca Magari vedevano Il mio video E si potevano Fare una visione A 360 gradi Del personaggio E poi decidere Se diventare Suoi clienti O meno Ma questo video È stato rimosso E mi chiedo Se sia possibile Riapploodarlo In seguito Usando una thumbnail Che non è più Il suo viso Una thumbnail In cui posso dire Quanto o meno Come si chiama Gasta Mi chiedo solo Se l'algoritmo Di youtube Nel momento in cui Io riapplodo Il video Che è stato Bannato Se io lo riapplodo Se me lo toglie A prescindere O se me lo lascia Nel momento in cui Io non usi una thumbnail Che violano il copyright Secondo voi Si può fare Si può riapplodare Questo video O no Che dite Detto questo Come ho detto Mi prenderò una pausa Dal parlare Attaccare direttamente Certi personaggi Perché Come ho detto I poteri forti I poteri grassi Sono On my case Mi stanno Mettendo pressione E quindi E devo dire Nel frattempo Vi consiglio di guardare Il gruppo facebook Fufflix Che ha 6-7 mila Membri Unitevi a quel gruppo Così potete Seguire È un gruppo molto attivo Dove tutti i giorni Ci sono post Sui vari guru italiani I vari Ormai ci sono anche ragazzini Di 12 anni Con l'apparecchio Che vi insegnano a tradare Piuttosto che altri Che vi insegnano Qualsiasi cavolata Pur di spillarvi soldi Andate a dare un'occhiata Su quel gruppo Mentre io Mi prendo Questo periodo Di riflessione E tornerò La serie guru Tornerà Ho in mente Di fare magari Nel prossimo settimana Un video Sulla libertà Economica Sul fatto che Non esistono I passi Income Sul fatto che Non esiste La libertà Economica Tanto umillantata Da Rich Dad E tutti i guru Che vogliono vendervi I loro corsi E quello Voglio farlo comunque Perché non vado a A toccare il copyright Di nessuno Quello dovreste guardarlo Perché Spoiler La libertà finanziaria L'inipendenza finanziaria E il passive income Non esistono Non nel modo In cui ve li presentano Questo lo voglio fare comunque Quando invece si parla Di attaccare direttamente qualcuno Datemi qualche mese Per Riassestare la situazione Ripeto Il mio paypal La mia post pay evolution Sono qui Mandatemi un bonifico Magari Non so Due sterline Mi compro La filadelfia 300 grammi Con 11 Mi posso ordinare Una margherita Da Da romanelli Non so Vedete voi Se invece Volete Esagerare Mandarmi 20 euro Va bene anche 20 euro Dai ci vediamo La prossima Mi raccomando Accendete L'ultimo neurone Rimasto Prima di Separarvi Dai vostri Soldini Perché tanto Non esistono segreti Per fare i soldi E chi ve li vuole vendere Sono solo dei grandi Ciao Ciao